Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme, finalmente è arrivato il momento di parlare, dico finalmente perché era un po' di tempo che ci correvamo dietro e quindi tirare anche un bilancio del settore turistico, un ambito molto importante, strategico, lo sappiamo benissimo per la nostra regione, capire quali sono stati gli andamenti, quali sono le prospettive è rilevante, perché poi condiziona tanti anche altri ambiti del commercio e dei servizi, ma non soltanto, è un po' il polso della situazione e poi potrebbe anche tirarci un po' sul morale, perché no, vediamo dei dati che sono inquietanti per quel che riguarda l'inflazione, la tendenza di alcuni consumi, i beni di primo consumo di necessità, insomma ci sono tante cose che non vanno bene, però sembra che le persone tendano e abbiano piacere comunque a gratificarsi visitando le località, andando anche il fine settimana fuori, concedendosi delle vacanze, è così o non è così? Il fine settimana magari mangiare fuori e gratificandosi con anche una ristorazione di un certo tipo, insomma vediamo di capirlo con i nostri esperti, come avete visto prima dietro di me, Coffcommercio Veneto protagonista e quindi il Presidente Massimiliano Schiavon, Presidente Federalberghi Veneto, ben ritrovato, è qui con noi, ed è qui con noi anche Paolo Artelio, Presidente Fipe Veneto, grazie anche a lei Presidente. Grazie a lei. Allora, innanzitutto come cappello, giusto per capire e spiegare sempre ai nostri telespettatori cosa rappresenta Federalberghi Veneto e che rilevanza viene ad avere? Poi la stessa domanda gliela giro anche a lei così spieghi cos'è Fipe, prego. Oltre a qualche, direi, punto percentuale di PIL importante per l'economia della nostra regione, Federalberghi Veneto aggruppa 2500 aziende del settore ricettivo alberghiero, quindi un polmone economico importante anche per quello che riguarda poi tutto l'indotto occupazionale che questo va a generare in modo trasversale su tutti i settori, quindi non solo la parte diciamo ricettiva, ma poi anche tutta la parte del commercio, della ristorazione, il nostro è un settore molto trasversale da questo punto di vista, quindi direi un ruolo strategico e che abbiamo visto quanto pesa, soprattutto quando è venuto a mancare, dopo questi due anni di pandemia abbiamo capito veramente qual è stato il valore e la ricchezza del turismo non solo per il nostro territorio e quindi per la nostra regione Veneto, ma direi, meglio tardi che mai, anche a livello nazionale di che cosa voleva dire avere gli alberghi fermi, vuoti, con l'occupazione praticamente a zero. Adesso stiamo affrontando una nuova fase, quasi un rinascimento per certi aspetti. E questa è la bella notizia, perché vediamo anche in positivo. Abbiamo il dovere di guardare positivamente anche a quello che ci aspetta, certo sarà un impegno non facile, difficile, lo sforzo che hanno messo in campo i nostri operatori, i nostri albergatori è stato significativo in questi due anni. Credo che sia stato anche un grande momento però di crescita e di presa di consapevolezza anche del lavoro che ci aspetta, di quello che dobbiamo fare, di come ci dobbiamo rilanciare. Non è un termine forse appropriato, ma forse rinnovare. Ecco, il termine innovazione è un termine che ricorre spesso. Adesso poi siamo tutti in attesa di vedere poi gli sviluppi di queste risorse che arriveranno col PNRR. Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo, perché siccome merita un capitolo a se stante proprio per precisare bene il tutto. Presidente FIPE, FIPE, allora quindi Federalberghi Chiarito, un bel po' di alberghi che fanno parte del categore di confcommercio, FIPE invece? FIPE, proprio per non sbagliare mi sono preso dei dati che sono i dati ufficiali che abbiamo in Veneto. Abbiamo circa 26.231 esercizi di pubblici esercizi. Che vuol dire bar, ristoranti. Bar, ristoranti. Poi abbiamo un fatturato circa nel Veneto di 6 miliardi 180 milioni e abbiamo la nostra categoria a salari e stipendi per 1 miliardo 232 e diamo 125 mila occupati. Ecco, questo per farle capire l'importanza dei pubblici esercizi sul tessuto Veneto, che poi ovviamente come dicevamo è sul tessuto nazionale, ma questi sono i dati del Veneto. Dobbiamo capire anche che la nostra categoria, come dicevamo, come gli alberghi e come tutti, siamo usciti da due anni di pandemia veramente pesanti e qua va un plauso a tutti i nostri imprenditori perché veramente con grandi sacrifici si sono ingegnati su qualsiasi situazione, da fare qualsiasi situazione per poter mantenere in piedi le proprie aziende e ovviamente anche strutturare, ristrutturarsi e dare sempre miglior qualità ai loro clienti. Questo è un dato importante perché da questo loro lavoro vengono questi dati qua. Vuol dire che questi due anni di pandemia sono stati occupati bene dai nostri imprenditori, hanno ristrutturato le proprie aziende, sia dalla parte finanziaria che dalla parte strutturale e ovviamente ci sta pagando la qualità che si possono trovare nei nostri esercizi pubblici, sia nei bar sia nella ristorazione. Parliamo di ristorazione che può essere dalla trattoria tipica allo stellato, quindi abbiamo un range molto largo. Però stiamo veramente dando tutto il possibile perché la ristorazione e anche ovviamente gli esercizi pubblici entrano sempre di più nel fattore turistico, perché come dicevo prima, stiamo vedendo proprio che la ristorazione diventa attrattore turistico. La gente viene sui nostri territori perché trova dei prodotti di eccellenza e quindi viene per provare questi prodotti. Quindi il messaggio in Italia, in Veneto, in un territorio si mangia bene, si mangia sano, è passato e sta dando i suoi frutti, con grossi sacrifici ovviamente ai nostri imprenditori, perché ovviamente anche la ricerca del prodotto è sempre a chilometro zero, cercare sempre di trovare anche una situazione di sostenibilità che i nostri imprenditori stanno portando avanti, devo dire che è un plauso per tutta la nostra categoria. Bravissimo, sostenibilità, poi lo giro anche la domanda, anche il Presidente si chiamò. La sostenibilità è cercata da un certo target di turisti, peraltro sembra anche ben spendenti, che richiedono questo, lo vogliono, hanno l'aspettativa. Direi che lo pretendono. Volevo dire la parola pretendono, però è questo il termine. Quindi spinge il ristoratore avveduto e attento a portarsi verso questo versante, però le cose non si fanno da soli, lo dicevamo, noi siamo in un paese dove ci sono le imprenditorialità quindi di gestione diretta, da avere anche dei collaboratori molto ben formati e quindi le scuole, i giovani e chi lavora già nel settore avrebbe necessità di una spinta in più, di qualcosa che sia di supporto per poter anche dare e proporre un servizio diverso, perché se magari l'imprenditore è anziano e fa il gestore, l'operatore, ha il suo albergo, però se sei stimolato da un direttore, da un collaboratore che ha fatto dei percorsi diversi potresti cogliere la palla al bacio, questo per semplicizzare. È importantissimo, ma lo vediamo anche nel cambio generazionale, ovviamente vediamo la ristorazione che era ovviamente del padre, adesso sono entrati i figli e vediamo che c'è già un salto di qualità, perché ovviamente il giovane riesce a percepire prima questa situazione di sostenibilità, perché la sostenibilità parte praticamente dai giovani, perché noi vediamo anche il mercato turistico più chiaro dei paesi del nord, proprio la ricerca della sostenibilità, perché ovviamente prima di arrivare, ma penso che sarà anche più che altro anche negli alberghi, vogliono capire quanto c'è di consumo del CO2, il prodotto che è a chilometri zero, la situazione di tutto quello che va… Che il cibo sia salutare, non troppo comidito. E' una cosa che ti cerco, quindi noi vendiamo in questa situazione di ristorazione anche la situazione e la qualità del prodotto, la bravura dei nostri produttori a far capire cosa stanno mangiando, perché ovviamente non è più una questione che può essere un euro, due euro in più, ma loro vogliono mangiare bene e sano, come diceva lei, quindi sta, come diceva lei nella nostra preparazione, nella nostra formazione, spiegare al nostro cliente il prodotto che in quel momento gli viene fornito dall'esercizio pubblico e dalla ristorazione. Poi non è più una questione di un euro due, l'importante è che mangiano bene e abbiano dei prodotti sani. Assolutamente, vi faccio la domanda, lo so che è perfida, però ricorre, a proposito di sano, più volte parlando con diverse persone, in cui mi hanno detto, ma non vado neanche a casa di una persona, a trovarlo portando la classica bottiglia di vino, perché chi è a particolarità, ti dice, non mi stai regalando qualcosa di sano, dopo tutta la bagarre che è venuta fuori. Da quel punto di vista, ne avete tratto un documento, oppure la cosa più di tanto non ha toccato la sensibilità degli ospiti? Cosa ha riscontrato? Guardi, quello che sta dicendo lei sulla situazione che sta succedendo in questo momento, sul vino, ma tutti gli ospiti che vengono nel nostro territorio conoscono la grande qualità dei nostri prodotti e quindi io direi che bere sano, come dire, non esagerare, ma in tutte le situazioni che quello fa male è l'esagerazione. Bere un buon bicchiere di vino o anche due bicchieri di vino di un prodotto di alta qualità sicuramente non nuoce alla... Quindi non l'avete riscontrato più che altro, no? No, devo dire che... Non c'è stato danno, insomma. Sempre di più, però ti chiedono la qualità anche ovviamente nella parte del vino. Però ecco, non l'abbiamo riscontrato perché sanno che i primi siamo noi a volere la salute dei nostri ospiti. Quindi siamo noi che dobbiamo cercare, come dicevo prima, sia nell'alimentazione ma anche nel bere, farli bere nel modo moderato ma nell'alta qualità. Ecco, questo è importante. Qualità e soprattutto, dicevamo, sostenibilità per gli alberghi è un investimento anche più importante, no? Perché nella ristorazione c'è un certo tipo di atteggiamento, di comportamento, eccetera. Per voi invece vuol dire anche mettere mano a volte alle strutture? Ma indubbiamente la fase che noi in questo momento stiamo affrontando è una fase anche di grandi investimenti e di ristrutturazione complessiva non solo della parte immobiliare ma anche della parte organizzativa interna, no? Di erogazione dei nostri servizi. Sentiamo molto parlare in questo momento di quelli che sono i grandi obiettivi dell'ESG, cioè dettati un po' dal PNR e quindi il tema della digitalizzazione, il tema della sostenibilità, il tema della, diciamo, di tutta la parte anche organizzativa aziendale, no? Ecco, tutto questo si traduce in un denominatore comune che si chiama innovazione. Noi, il nostro, guardi, ricordo un direttore storico di un'associazione di categoria territoriale che una volta mi disse, ricordati che il tuo settore è un settore condannato al rinnovamento. Condannato. Condannato al rinnovamento. Vuol dire che noi abbiamo il dovere, oggi più ancora di ieri, costantemente di innovare la qualità dei nostri servizi. Se lei ci fa caso è un fenomeno già in atto perché c'è un riposizionamento generale dei due stelle verso il tre stelle, del tre stelle verso il quattro stelle e così a salire dal quattro S al cinque stelle. Nella nostra costa Veneta abbiamo visto arrivare anche degli alberghi nuovi, ricostruzione di nuove strutture anche a cinque stelle che hanno dimostrato di avere un interesse da parte del mercato molto significativo. Quindi oggi è chiaro che il mio è un settore costituito in Italia da 33 mila alberghi, nel Veneto 2.500 imprese che rappresentiamo non sono in grado da sole di fare ricerca e sviluppo. Però c'è l'associazione di categoria. Molto avvantaggiati perché le dirò che i temi della ricerca e dello sviluppo sono stati già dettati appunto da quello del PNR e adesso noi dovremmo darli a declinare. Se posso dirle un fenomeno abbastanza evidente in questo momento è che ci sono due realtà nel mercato, ci sono le cose che costano poco e costeranno sempre meno, sono due modelli, le cose che costano tanto e costeranno sempre di più. Ora si può fare business anche con quelle che costano poco e costeranno di meno, ma per farlo bisogna avere ovviamente una capacità di avere un controllo dei costi e soprattutto una produzione a basso costo che il settore alberghiero in questo momento non è in grado da sostenere. Quindi possiamo fare solo una scelta, la scelta che possiamo fare è quella di innalzare il livello qualitativo, incominciare a innovare molto quella che è la qualità dei nostri servizi che sono fatti dalle persone, poi se vuole parlare di noi. No, no, ma infatti adesso interrompo un attimo perché ho la pubblicità che incombe. E poi no, mi lasci dire ancora solo due cose, marketing e ovviamente brand, che sono altri due concetti importanti da sviluppare. Ci rilasciamo con il discorso marketing e brand, ma anche formazione e la parla poi la daremo anche al Presidente Fipe. C'è un messaggio che leggo prima di andare in pubblicità, vediamo se dalla regia riescono a mettermelo in onda, che l'avevo letto velocemente. Prima, la ristorazione in Veneto è eccelsa ed invidiabile, ricca di prodotti DOP, ma a che costo? E quindi questo è un po' un commento di nostro telespettatore, pubblicità a pochi secondi, poi facciamo commentare anche ovviamente questo messaggio ai nostri ospiti tra poco.